Musica Vado a scuola fino alle 3, quindi ogni giorno la mia madre l'ospitante mi prepara al pranzo assieme ai miei fratelli ospitanti. Musica 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 Bye Mule! Di solito inizio scuola alle 8.40 ma siccome oggi ho una riunione con il mio professore inizio scuola alle 9.15 quindi posso svegliarmi e partire un po' più tardi e vado a scuola a piedi tutti i giorni, ci metto circa 30-35 minuti, andata e ritorno. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.